Mentre la presentazione parte ovviamente do il buongiorno a tutti e desidero prima di tutti ringraziare il presidente dell'Accademia dei 40, gli organizzatori ma in particolare il collega amico il professor Giorgio Manzi per avermi invitato ancora una volta a parlare di l'origine della nostra specie e dei suoi mescolamenti con Neandertal ma non solo. Sono molto contenta di partecipare a questi seminari sull'evoluzione umana con un argomento che mi capita di trattare di frequente e che veramente mi piace molto. Prima di cominciare però permettetemi di scusarmi in anticipo se dovessi trattare dei temi che sono già stati anticipati da colleghi in relazioni precedenti perché i titoli di alcuni seminari portano a far sì che gli argomenti possano in qualche modo sovrapporsi. Mi scuso perché mi ricordo sempre le parole del mio professore di liceo che diceva, scherzando, ripetita juvant, tripetita scotchant, anche se forse sentire lo stesso argomento da persone diverse potrebbe aiutare a capire l'argomento stesso ma in caso ce lo diciamo alla fine. Voglio invece adesso cominciare con sottolineare come l'introduzione degli studi del DNA antico in antropologia e in particolare la nascita di un nuovo settore di ricerca che è la paliogenomica ossia la decifrazione dell'intero genoma di nostri antenati ormai stinti, primo fra tutti l'uomo di Neandertal. Paliogenomica che avvalso come sapete nel 2022 dal suo fondatore il premio Nobel per la fisiologia o la medicina proprio per il grande contributo che la paliogenomica ha dato nel comprendere meglio in alcuni casi nel riscrivere alcuni passaggi chiave della nostra storia evolutiva. Ebbene con l'introduzione degli studi sul DNA antico è stato possibile risolvere alcuni delle dispute più accese che l'analisi classica, quella basata sull'anatomomorfologia dei resti scheletrici e sulla genetica delle popolazioni attuali non era riuscita a risolvere. In particolare grazie agli studi sul DNA antico o meglio sulle biomolecole antiche è oggi possibile caratterizzare a livello genetico le popolazioni del passato, ricostruire le dinamiche di popolamento di determinate aree geografiche, stabilire i rapporti di parentela nel caso di sepolture multiple, risolvere i casi dubbi di determinazione del sesso quando per esempio abbiamo a che fare con individui di età giovanile oppure abbiamo a disposizione solo piccolissimi frammenti, ossei che non sono ovviamente diagnostici per il sesto. Possiamo ricostruire la paliodieta, cioè di che cosa si cibavano i nostri antenati o anche rilevare difetti o malattie. Ma sicuramente il punto centrale su cui lo studio del DNA antico e la paleogenomica sono intervenute con grande autorevolezza è sicuramente quello relativo a stabilire come, dove e quando ci siamo originati come specie nuova, Homo sapiens, e quali sono stati i nostri rapporti con antenati ormai stinti, primo fra tutti i uomo di Neandertal. Infatti su questo punto la diatriba scientifica è sempre stata molto accesa perché sulla base delle stesse evidenze fossili, cioè sulla base degli stessi resti estetrici, i ricercatori non erano concordi su quale fosse il modello più idoneo da proporre per spiegare la nostra origine. Sono stati proposti due scenari opposti. Il primo, conosciuto come modello multiregionale o della continuità regionale, stabilisce che Homo sapiens si sia originato nel corso del ploistocene non solo in Africa ma anche in Europa e in Asia. Per cui in questo modello si pone che l'uomo anatomicamente moderno evolse in situ nelle varie aree del vecchio mondo a partire dalle forme arcaiche che intorno a due milioni di anni fa erano per la prima volta usciti dalla culla africana ed erano andate a occupare Asia ed Europa. Pertanto ci sarebbe stata in Africa un'evoluzione continua che avrebbe portato da Homer Gaster a Homo del Bergensis a Homo Sapiens africano, in Asia un'evoluzione che avrebbe portato da Homer Gaster a Homo Erectus a Homo Sapiens asiatico e in Europa un'evoluzione che avrebbe portato da Homo del Bergensis a Homo Neandertalensis a Homo Sapiens europeo. Pertanto in questo modello l'uomo di Neandertal rappresenta il padre diretto delle popolazioni dell'Eurasia occidentale. Il modello opposto, conosciuto come autovefrica, un modello di sostituzione, prevede invece che ci siamo originati recentemente, intorno a 200 mila anni fa, in una sola zona del mondo, in Africa orientale, perché da quella zona provengono i fossili più antichi di uomo anatomicamente moderno, a seguito di un processo di speciazione per equilibri punteggiati, ossia una popolazione di Ergaster si sarebbe isolata riproduttivamente dalle altre, avrebbe cominciato ad accumulare mutazioni fino a speciare circa 200 mila anni fa in Homo Sapiens. L'Homo Sapiens poi una volta colonizzato tutto il continente africano sarebbe uscito dall'Africa e che avrebbe dapprima occupato il vecchio mondo, incontrandosi faccia a faccia con Omeretus in Asia e altri e l'uomo di Neandertal in Europa, ma non si sarebbe potuto mescolare in maniera proficua con loro in quanto appartenenti a specie diversa e per tanti le avrebbe sostituiti. In questo modello l'uomo di Neandertal rappresenta un ramo morto della nostra storia evolutiva, un antenato che si è estinto senza evolvere in uomo moderno. La prima evidenza molecolare a favore di un'origine unica africana e recente della nostra specie, pertanto a totale supporto del modello dell'autovefrica, risale al 1987 quando tre ricercatori dell'Università di Berkeley in California, Rebecca Kahn, Mark Stonikin e Alan Wilson, analizzando il DNA delle popolazioni attuali, hanno risolto il problema dell'origine della nostra specie, con grande eco anche sulla stampa non specializzata. I tre ricercatori hanno posto la loro attenzione su un tipo particolare di DNA, il DNA mitocondriale, contenuto nei mitocondri, che sono degli organelli che si trovano nel citoplasma della cellula, organelli che sono delle vere e proprie centrali energetiche, perché trasformano le sostanze nutritive in energia che la cellula utilizza per le sue funzioni. Ebbene, questo DNA mitocondriale, che come vedete, a differenza di quello nucleare, è piccolo, circolare e chiuso, presenta tre caratteristiche che lo rendono lo strumento ideale negli studi evolutivi. È presente nelle cellule numerose copie, tutte uguali tra di loro, e questa caratteristica lo rende lo strumento ideale per gli studi sul DNA antico, in quanto riesce a sopravvivere nel tempo molto di più del DNA nucleare che è presente in doppia copia in ciascuna cellula. Ha un tasso di evoluzione elevato, cioè accumula mutazioni velocemente. È un orologio molecolare con un ticchettio molto veloce che è indispensabile per studiare la storia evolutiva di una specie molto recente come la nostra. E infine viene ereditato per via materna. Il DNA mitocondriale viene trasmesso dalla madre ai figli, sia maschi che femmine, identico se non per mutazioni casuali che avvengono quando il DNA mitocondriale viene replicato, e solo le figlie femmine lo possono ritrasmettere alla generazione successiva, raccontandoci pertanto la nostra storia al femminile. E grazie agli studi sul DNA mitocondriale abbiamo capito che siamo venuti al mondo grazie a un singolo evento evolutivo concretizzatosi in Africa recentemente, cioè a supporto del modello dell'autopefrica. Tuttavia, nonostante l'importanza di questi studi, non era possibile decretare il fatto che il modello multiregionale fosse sbagliato sulla base soltanto del DNA mitocondriale, perché il DNA mitocondriale rappresenta una frazione piccolissima dell'intero genoma, pensate che è solo lo 0,0006% di tutto il genoma. E in più, come vi ho detto, ci racconto una storia particolare che è una storia al femminile. Ecco che negli anni seguenti sono stati analizzati altri tratti di DNA, tra cui il primo che è stato studiato è stato il DNA del cromosoma Y, perché rappresenta la controparte maschile del DNA mitocondriale. Il DNA del cromosoma Y viene trasmesso dal padre ai figli e pertanto ci racconta la nostra storia al maschile. E anche lo studio del DNA Y specifico concorda perfettamente col fatto che siamo nati in Africa recentemente. Anche gli studi sul DNA autosomico hanno confermato questo modello. Pertanto una volta stabilito che siamo una specie giovane e che una volta nati in Africa siamo poi usciti fuori dall'Africa sostituendo nel vecchio mondo le popolazioni arcaiche presistenti e poi continuando la nostra espansione nel nuovo e nel nuovissimo mondo, sembrava proprio che il problema della nostra origine fosse ormai risolto. Ma c'era ancora chi riteneva, e a mio avviso ha ragione, che il solo studio sul DNA delle popolazioni attuali non fosse sufficiente ad escludere completamente che l'uomo sapiens, una volta uscito dall'Africa e incontratosi in Medio Oriente faccia a faccia con Neandertal, non si fosse potuto mescolare in maniera proficua con lui e che poi, solo per caso, nel corso della nostra successiva storia evolutiva, le prove di questo avvenuto mescolamento si sarebbero cancellate e pertanto noi non potremmo essere nient'altro che due sottospecie della stessa specie, noi, Homo sapiens sapiens e Neandertalensis, proprio come proposto dai multiregionalisti. Ecco che un altro sviluppo degli studi molecolari ha permesso di rispondere anche a questo punto, lo studio del DNA antico. Nonostante l'importanza di questo nuovo branca di studio dell'antropologia, devo dire che all'inizio della sua storia lo studio del DNA antico è stato circondato da un'ingiustificata atmosfera di sensazionalismo. Siamo agli inizi degli anni 90 del secolo scorso, quando venne pubblicato il meraviglioso libro di Crichton, Jurassic Park, a cui seguì l'omonimo film, e proprio in quegli anni venivano pubblicate su riviste prestigiose sequenze di DNA ottenute da ossa di dinosauro, insetti conservati nell'ambra, foglie di magnolia, esemplari antichi, decine se non addirittura centinaia di milioni di anni. Oggi sappiamo che quei dati non erano veri, erano artefatti di laboratorio dovuti da contaminazione con DNA moderno. Studi recenti ci dicono che il DNA sembrerebbe non poter sopravvivere oltre uno o due milioni di anni e il DNA più antico finora ottenuto anche per la nostra storia evolutiva risale a 500 mila anni fa. Ma questo limite temporale era perfettamente idoneo per risolvere il problema di Neandertal. Infatti Neandertal vi ricordo che è vissuto in un periodo che è compreso fra i 400 mila e i 40 mila anni fa. Infatti grazie ad alcuni progressi a livello metodologico che si sono avuti nel nuovo millennio e negli studi del DNA antico è stato possibile finalmente ottenere la sequenza dell'intero genoma di questi nostri cugini, di confrontarla con quelli di noi Homo sapiens e finalmente di capire cosa è successo nel momento in cui Neandertal e sapiens si sono incontrati. Questi progressi metodologici riguardano la messa a punto di sofisticati metodi di sequenziamento degli acidi nucleici conosciuti con l'acronimo NGS Next Generation Sequencing che consentono non solo di ottenere interi genomi a partire da piccolissime quantità di tessuto biologico ma anche di monitorare quello che è il peggior incubo di chi studia il DNA antico umano e cioè la contaminazione da DNA moderno. Il secondo progresso è stato quello di scoprire che c'è una parte del nostro scheletro, la rocca petrosa, che è una porzione dell'osso temporale che fornisce un DNA che è sia a livello qualitativo che quantitativo eccellente per gli studi di paleogenomica. E grazie a questi due avanzamenti nel 2010 e nel 2014 sono state ottenute le prime sequenze complete del genoma di Neandertal. Nel 2010 si trattava di un genoma cosiddetto composito, cioè ottenuto assemblando le parti di DNA meglio conservate ricavate da diversi reperti neandertaliani. Per la maggior parte erano reperti della Croazia ma anche sono stati utilizzati reperti spagnoli, tedeschi e russi. Nel 2014 invece il sequenziamento completo è stato ottenuto a partire dal DNA estratto dalla falange del dito del piede di una femmina neandertaliana proveniente dai monti Altà in Siberia Meridionale. E il confronto delle sequenze di Neandertal con quelle di individui della nostra specie provenienti dalle varie aree del mondo ha messo in evidenza che tra le popolazioni europee, asiatiche ma anche nei papo a Nuova Guinea è presente una percentuale di DNA neandertaliano pari all'1-2%. Questo vuol dire che Neandertal e Sapiens si devono essere incrociati. Ma dove sarebbero avvenuti questi incroci? Molto verosimilmente sarebbero avvenuti in Medio Oriente subito dopo la prima massiccia uscita fuori dall'Africa della nostra specie che si è avuta tra 60.000 e 50.000 anni fa ma sicuramente prima della sua successiva dispersione nel resto del mondo perché altrimenti non potremmo spiegarci la presenza di DNA neandertaliano anche nei papo a della Nuova Guinea dove Neandertal non è mai arrivato. Allora questo vuol dire forse che il modello per spiegare la nostra origine più accreditato non è più quello dell'autovefrica? No, questo significa che dobbiamo rivedere il modello dell'autovefrica. Pertanto dobbiamo ammettere che ci siamo originati una sola volta in Africa recentemente ma che poi una volta usciti dall'Africa e incrociati con i nostri parenti più antichi che erano precedentemente usciti fuori dalla culla africana ci siamo potuti mescolare in maniera proficua con loro. Lo studio più dettagliato di quella femmina neandertaliana sequenziata nel 2014, quella proveniente dai monti Altai, ha messo in evidenza che l'introgressione genetica tra le due specie, ossia l'introduzione di genoma di una specie nell'altra a seguito di incroci e ripetuti mescolamenti è stata bidirezionale. Infatti nella femmina neandertaliana sono stati individuati dei tratti di genoma di sapiens in progresso molto anticamente, intorno a centomila anni fa. Questo vuol dire che l'uomo sapiens è uscito fuori dall'Africa più volte alcune delle quali molto anticamente. Poi c'è stata introgressione di genoma di neandertal nelle popolazioni dell'Eurasia come a seguito della massiccia migrazione fuori dall'Africa della nostra specie e questa introgressione di neandertal in sapiens è continuata in Europa e più recentemente come dimostra lo studio molecolare condotto su alcuni reperti di homo sapiens datati tra 46.000 e 37.000 anni fa e provenienti da questi siti dell'Europa orientale. Interessante notare che il dna in progresso in questi individui da parte di neandertal è di una percentuale molto elevata tra il 3 e il 9 per 100, valori così alti che non sono mai stati riscontrati fino ad ora. La mancanza di ogni relazione genetica tra questi reperti e le popolazioni europee antiche e odierne che siano sembrerebbe indicare che questi individui avevano fatto parte di popolazioni di sapiens che una volta erano molto diffuse in questa zona ma che poi o si sono estinte o sono migrate altrove come dimostra la somiglianza genetica tra il genoma di questi individui e il genoma delle attuali popolazioni dell'Asia orientale e delle Americhe. Nel 2010 nel 2012 lo studio molecolare condotto a partire del dna estratto dalla falange del dito mignolo di una femmina di ominino proveniente dalla grotta di Denisova, siamo sempre in Siberia meridionale sui monti Altai, ha lasciato il mondo antropologico di stucco. Infatti le sequenze ottenute non ricadevano né nella variabilità nota per sapiens né in quella nota per neandertal. Ad indicare che eravamo in presenza di una popolazione diversa, chiamiamola pure di una specie diversa, che non era fino allora stata descritta a livello anatomo-morfologico e che era stata identificata pertanto soltanto su base molecolare. Una nuova specie che andava ad ampliare il giacopioso cespuglio della nostra storia evolutiva. Una specie che inoltre si è mescolata con noi sapiens, in quanto nelle attuali popolazioni che vivono in Oceania e nell'Asia orientale, si è trovato un contributo di DNA denisovano pari che può arrivare fino al 6% e che appartiene a tre rami filogenetici distinti. Nonostante i mescolamenti tra sapiens e neandertal e sapiens e denisova, i tratti di DNA arcaico non sono uniformemente distribuiti nel genoma delle popolazioni attuali. Forse il mescolamento si sarebbe potuto rivelare dannoso e pertanto nel tempo l'evoluzione ne avrebbe cancellato completamente le tracce. Le zone del genoma che sono più povere di DNA arcaico sono quelle dei geni collegati col cervello e dei cromosomi sessuali, mentre le zone più ricche di DNA neandertaliano e denisovano sono sicuramente le zone che sono note come bersaglio dell'evoluzione, per cui mi riferisco al sistema HLA, il sistema immunitario, oppure ai geni che controllano i livelli di zucchero o di zuccheri o di lipidi nel sangue. Il mescolamento con i neandertaliani e i denisovani che erano distribuiti in Eurasia da centinaia di migliaia di anni avrebbe consentito a noi sapiens provenienti dall'Africa di acquisire velocemente quelle varianti più idonee sia a livello immunitario che a livello ambientale per sopravvivere nelle nuove aree che andavamo colonizzando. Un fenomeno questo noto come introgressione adattativa, che sappiamo aver giocato un ruolo fondamentale nell'adattamento e nell'evoluzione di piante e batteri e che potrebbe aver giocato un altrettanto ruolo fondamentale anche nella nostra storia evolutiva. Noi sappiamo che i geni che abbiamo ereditato da Denisova possono conferire un più acuto senso dell'olfatto nei papua della nuova guinea e un più efficiente adattamento alle alte altitudini nei tibetani attraverso il gene EPAS1 che conferisce resistenza all'ipossia. Mentre i neandertaliani ci hanno dato pelle e capelli più resistenti e anche questo avrebbe permesso ai sapiens provenienti dall'Africa di resistere meglio ai climi più rigide delle alte latitudini. Altre varianti favorevoli ereditate da neandertal sono per esempio la variante genetica V660L del gene che codifica per il recettore del progesterone che è un ormone secreto dal corpo luteo e che serve a mantenere le prime fasi della gravidanza. Sappiamo che una donna su tre di origine europea presenta questa variante che ha un effetto favorevole sulla fertilità e quindi conferisce vantaggio evolutivo. Un'altra variante favorevole è quella localizzata sul cromosoma 12 che riduce del 22% il rischio di sviluppare casi gravi di Covid-19. La variante è attualmente assente in Africa ed è presente in circa la metà degli individui che vivono al di fuori del continente africano e questa distribuzione potrebbe far pensare che questa variante sia stata vantaggiosa contro altre pandemie da virus a RNA. Ma non tutte le varianti che neandertal ci ha passato sono favorevoli, infatti ci sono anche delle varianti dannose come alcune varianti presenti sul cromosoma 3 e questa volta invece aumentano il rischio di ammalarci di forme gravi di Covid-19 per cui con la necessità di ricorrere alla terapia intensiva o alla respirazione forzata. Questa variante presenta una distribuzione molto diversa nel mondo, è quasi assente in Africa, in Europa è presente nell'8% dei casi, in Asia va da 30% nell'Asia meridionale, ha valori più bassi nell'Asia orientale e la popolazione che è più a rischio è la popolazione del Bangladesh in cui ben il 63% degli individui presenta una copia di questa variante. Nel 2020 e nel 2021 sono state ottenute nuove sequenze di buona qualità complete di neandertaliani provenienti da altri due siti della Siberia meridionale e individui questi datati tra 80.000 e 50.000 anni fa. E la cosa interessante è che queste sequenze sono più simili a quelle dei neandertaliani europei, specialmente a quelli della Croazia, rispetto alle sequenze degli altri neandertaliani provenienti dalla grotta di Denisova in Siberia meridionale e datati 120.000 anni fa. Questo ha portato a concludere che verosimilmente in un periodo di tempo che va da 100.000-80.000 anni fa, alcuni gruppi di neandertaliani dell'eurasio occidentale si sia spostato verso Oriente e abbia sostituito completamente le preesistenti popolazioni neandertaliane che vivevano in Siberia. In questo studio è stata anche identificata la prima coppia padre-figlio, per cui il primo sicuro rapporto di parentela all'interno della popolazione neandertaliana. Sempre nel 2020 è stato applicato un metodo probabilistico, l'IBD-mix, che IBD sta per Identity by Descent, cioè identità per discesa, per questo metodo cercava di identificare tracce di genoma arcaico nelle popolazioni attuali. E quello che si è visto per la prima volta è che anche nelle popolazioni africane c'era una certa percentuale di genoma neandertaliana, anche se molto piccola. Questo apporto arcaico in Africa molto verosimulmente era dovuto anche a migrazioni di ritorno in Africa da parte di popolazioni di sapiens che in precedenza erano uscite fuori dall'Africa ed erano andate a mescolarsi con i neandertaliani. Non solo questo lavoro ha messo anche in evidenza la presenza anche nelle popolazioni neandertaliane d'Europa di genoma di sapiens, anche in questo caso, come era successo per i neandertaliani della Siberia, in progresso molto anticamente. Un altro studio condotto sulle popolazioni dell'Africa occidentale, per cercare di individuare tracce di introgressione superarcaica nella storia evolutiva di queste popolazioni, ha messo in evidenza che mediamente l'11% del loro genoma deriva da una specie umana arcaica ancora sconosciuta, a cui non sappiamo dare attualmente un nome. L'unica cosa che sappiamo è che questa specie ha cominciato a divergere molto anticamente, molto prima della divisione del ramo che porta da una parte a Denisova e a Neandertal e dall'altro al ramo della nostra specie. Non conosciamo il nome neanche di un'altra popolazione superarcaica che si è mescolata con gli antenati dei denisovani e dei neandertaliani, i cosiddetti neanderzovani, lasciandogli ben il 2% del suo genoma. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di Homo erectus, di Homo ergaster oppure addirittura di una specie che ancora non è stata identificata. Quello che sappiamo però è che il periodo di questo muscolamento è molto antico e deve risalire a oltre 700 mila anni fa. Recentemente un team di ricercatori statunitensi e cinesi hanno voluto indagare con maggior dettaglio su quale sia stato il contributo di noi sapiens sul genoma di Neandertal. Questo perché fino a quel momento l'interesse principuo era capire quali e quanti geni Neandertal avesse passato in noi e quello che hanno visto è che i neandertaliani hanno ereditato fino al 10% del loro genoma da noi sapiens e questo introgressione di noi sapiens e Neandertal sarebbe avvenuto attraverso due eventi di mescolamento. Il primo con il quale è stato introgresso tra il 10 e il 5% di genoma di sapiens e Neandertal è molto antico, avvenuto tra 250 mila e 200 mila anni fa. Proprio quando cominciano a comparire nel record fossile africano i primi reperti di uomo anatomicamente moderno. Secondo i ricercatori alcuni sapiens avrebbero attraversato il Sahara quando il clima era umido all'inseguimento di antilopi, di struzzi o di altra selvaggina, sarebbero arrivati in Medio Oriente, lì avrebbero incontrato Neandertal e si sarebbero mescolati con loro. Alcuni intriganti fossili di sapiens molto antichi provenienti dalla Grecia, dalla grotta di Apidima o da Israele nella grotta di Mislia, sembrerebbero testimoniare questa precoce uscita fuori dall'Africa. I discendenti di questi individui si sarebbero poi estinti ma non prima di aver lasciato la loro traccia nel genoma di Neandertal. Il secondo evento di mescolamento anche questo antico è avvenuto tra 120 mila e 100 mila anni fa, anche questo in Medio Oriente e durante questo secondo incontro i sapiens avrebbero in progresso 0,5% del loro genoma in Neandertal. Anche in questo caso ci sono dei fossili provenienti da Israele datati 120 mila anni fa che testimonerebbero ancora una volta questo secondo esodo antico della nostra specie dall'Africa. Non solo, ma secondo alcuni i resti rinvenuti sempre in Israele nella grotta di Nesher Rambla nel 2021 e datati 120 mila anni fa potrebbero rappresentare i discendenti i libri di questi primi incroci. Si è poi ipotizzato che la progenie di queste ondate di mescolamento così antico fosse rimasta con la comunità neandertaliana e pertanto non avrebbe lasciato alcuna traccia in noi. L'incontro tra sapiens e neandertal avrebbe equipaggiato i neandertaliani con geni che in noi sapiens influenzano alcuni processi neuronali e le cui mutazioni possono portare a delle disabilità intellettive. Questo ovviamente non vuol dire che Neandertal avesse sofferto di autismo o di altri problemi dello sviluppo neuronale, anche perché per stabilire questo bisognerebbe condurre delle appropriate sperimentazioni che potessero verificare se la versione di questi geni presenti in noi sapiens potesse aver influito in qualche modo sui nostri cugini neandertaliani. C'è stato poi un terzo episodio di incrocio molto più conosciuto avvenuto tra 60.000 e 50.000 anni fa in Medio Oriente e in Europa, a seguito della massiccia, della prima massiccia migrazione della nostra specie fuori dalla culla africana e in questo terzo episodio di mescolamento però non ci sarebbe stata introgressione di sapiens e neandertal, mentre i nostri cugini neandertaliani avrebbero passato il 2% circa del loro genoma alle popolazioni dell'eurasia occidentale, che è un'eredità che portiamo ancora all'interno del nostro DNA. Questo studio ha anche messo in evidenza che la numerosità della popolazione neandertaliana sia andata diminuendo considerevolmente nel periodo di tempo che va dai 250.000 ai 40.000 anni fa e si è anche visto che durante le ultime fasi della loro storia evolutiva sul pianeta la numerosità effettiva della popolazione neandertaliana non deve aver superato i 2.400 individui a fronte degli oltre 10.000 riproduttori della nostra specie. Pertanto questa costante riduzione della numerosità della popolazione neandertaliana avrebbe fatto sì che gli ultimi neandertaliani sopravvissuti venissero assorbiti nel pulgenico dell'uomo moderno e questo è perfettamente coerente con la teoria dell'assimilazione proposta nel 1989 dall'antropologo statunitense Fred Smith. Gli incroci non sono avvenuti soltanto tra Denisova e Sapiens e tra Neandertal e Sapiens ma anche i neandertaliani e i denisovani si sono mescolati tra loro come ha mostrato chiaramente lo studio molecolare condotto su una femmina, una giovane ragazza di 13 anni, soprannominata Danny, datata 50.000 anni fa. Lo studio molecolare di Danny ha mostrato chiaramente che il suo DNA mitocondriale era neandertaliano mentre analizzando il DNA nucleare si era scoperto che la linea genealogica paterna era denisovana. Non solo ma questa giovane mostrava una eterozigosi molto elevata ad indicare che i genitori dovevano essere appartenuti a due specie diverse. Pertanto una femmina neandertaliana e un maschio denisovano si erano mescolati e Danny era stato il frutto di questo mescolamento. La cosa interessante è che questo tipo di mescolamento non deve essere stato neanche sporadico perché anche il padre denisovano mostrava delle tracce genetiche neandertaliani che risalivano però a un periodo molto precedente. Recentissimamente è stata data notizia del sequenziamento completo di un maschio denisovano rinvenuto sempre nella grotta di Denisova e datato ben 200.000 anni fa. Si è visto che circa il 5% del suo genoma proveniva da una popolazione neandertaliana che non è stata ancora identificata a livello molecolare. Non solo ma i dati suggerivano anche che anche gli antenati di questo individuo denominato Denisova 25 dovevano aver avuto dei rapporti, cioè si sarebbero dovuti mescolare molto ripetutamente con i neandertaliani. Interessante anche che la popolazione a cui appartiene Denisova 25 è diversa dalle altre e successive popolazioni denisovane che erano state identificate all'interno delle grotte. Popolazioni queste che come vi ho detto avevano contribuito fino al 6% del loro genoma alle attuali popolazioni che vivono in Asia orientale e in Oceania. Pertanto lo scenario è che la grotta di Denisova deve essere stata un centro di incontro di diverse popolazioni. All'inizio c'era la popolazione più antica denisovana a cui Denisova 25 appartiene. Dopodiché questa popolazione è stata sostituita da successive popolazioni denisovane fino a che circa 120 mila anni fa come ci dicono i dati paleontologici nella grotta di Denisova arrivano i neandertaliani che subentrano completamente ai denisovani. Denisovani che intorno a 60 mila anni fa tornano nella grotta, questa volta coabitano con i neandertaliani e si mescolano anche con loro come aveva dimostrato lo studio genomico di Deni che era l'incrocio tra una femmina neandertaliana e un maschio denisovano. Intorno a 50 mila anni fa poi arriva l'uomo sapiens ad occupare la grotta e Denisovani e neandertaliani sono scomparsi. Questo indica che la grotta di Denisova e tutta la zona dei Monti Altai nel corso del Plistocene deve essere stato un crocevia importante per diverse umanità. Nonostante gli incroci tra Denisova e neandertal, i due sono rimasti sempre delle specie geneticamente distinte. Forse perché il loro areale di distribuzione era ben diverso, cioè i denisovani sono distribuiti in Asia orientale mentre i neandertaliani nell'Eurasia occidentale, o forse perché la fitness della loro progenia era più bassa, ossia erano meno in grado di sopravvivere e di riprodursi. Con gli studi di paleogenomica adesso siamo in grado di stabilire con maggiore accuratezza qual è la percentuale di genomani andertaliano e denisovano presente nelle attuali popolazioni di Sapiens. Vediamo che negli asiatici e negli europei la percentuale è circa la stessa, intorno all'1%, mentre negli africani, come vi avevo detto, la percentuale è molto più bassa e si attesta intorno allo 0,2%, mentre la percentuale di DNA denisovano presente in Asia orientale e in Oceania va dall'1 fino al 6%. In questa figura è mostrato lo schema di tutti i mescolamenti che si sono avuti nel corso del Pleistocene. Il verso della freccia indica la direzione del mescolamento. Con il colore blu sono riportati i mescolamenti vari tra Sapiens, Neandertal e Denisova, mentre con il rosso sono riportati mescolamenti con delle specie superarcaiche, cioè più antiche sia di Denisova che di Neandertal, a cui non sappiamo dare un nome ancora, infatti vengono chiamate specie fantasma, che hanno contribuito sia al genoma degli antenati di Denisova e di Neandertal sia al genoma degli antenati di noi Sapiens. Ma tutti questi mescolamenti ci devono forse preoccupare? Assolutamente no, perché la più recente indagine molecolare ha messo in evidenza che l'ibridazione tra unità tassonomiche distinte, cioè tra specie diverse, è un fenomeno molto comune in zoologia, non soltanto in cattività ma anche in natura, dove nelle zone di contatto tra le specie si verifica quello che viene chiamato un isolamento riproduttivo incompleto. Esempi sono gli incroci tra l'orso bruno e l'orso polare, tra lupi e coioti e anche tra diverse specie di primati. E così anche Denisova, Neandertal e Sapiens, che rappresentano tre specie con distinte storie filogenetiche e biogeografiche, nel momento di sovrapposizione dei loro areali di distribuzione si sono incrociate e hanno prodotto prole fertile e noi oggi siamo il frutto di quegli incroci. Voglio concludere dicendo che con gli studi di filogenomica il quadro della nostra storia evolutiva è diventato molto più complesso di quanto pensavamo in precedenza e sono sicura che studi futuri ci riserveranno ancora tante sorprese. Quello che sappiamo è che le varie umanità si sono sempre mescolate, cosa che continuiamo a fare noi Sapiens rendendo infondato sempre di più il concetto di razza umana. Grazie. Grazie, grazie a te Olga. Sono sicuro che chi ha ascoltato avrà molto apprezzato il tuo seminario che è stata una chiarezza didattica esemplare ed è riuscito anche non solo a evitare il problema di eventuali sovrapposizioni con lezioni precedenti ma forse anche chiarito alcuni dubbi che potessero essere nati sulla base di esse. Quindi non solo ripetita Juvent ma addirittura qua... Allora, ripetita non scotchant. Abbiamo un surplus di informazione e soprattutto di sintesi molto nitida, molto chiara. Su un tema ovviamente che ci interessa più di tutti gli altri e sul quale quasi potremmo organizzare un intero nuovo ciclo di seminari perché poi quello che riguarda la nostra specie in particolare dal momento della sua comparsa, le ibridazioni, ha il concetto stesso di speciazione, cioè come compare una specie, come essa poi si diffonde, interagisce con altre, queste altre si estinguono. Insomma, sono tutte tematiche che meriterebbero effettivamente un nuovo ciclo di seminari, toccando anche quest'ultima cosa che tu hai detto proprio in finale, cioè l'infondatezza del concetto di razza o del criterio di suddivisione in razze all'interno della nostra specie e forse poi più in generale. Il concetto di razza sarebbe meglio utilizzarlo in zootecnia per le specie naturali, utilizzare altri concetti come quello di varietà geografica o di sottospecie. Detto questo, io credo che insomma non si possa che ringraziarti tantissimo per questa bellissima presentazione, di cui peraltro non avevo dubbi, e lasciare spazio alle domande e ai commenti che ci potessero essere dal pubblico presente, fermo restando che poi molti altri ascolteranno questo seminario come i precedenti sul nostro sito, sulla nostra pagina web o su YouTube. Prego quindi con le domande. Non ci sono domande? Non c'è nessuno che abbia tutto chiarissimo? No, ecco mi sembrava che Elio ci avesse. Non ci poteva far mancare il suo intervento. Prego Elio, grazie. Vorrei approfittare della disponibilità della professoressa per ritornare su un tema con cui ho già fatto una domanda in un seminario precedente perché ancora non mi è chiaro, usare io un po' testone. Che cosa si intende quando si parla di queste percentuali? Perché a me sembrerebbe che una percentuale dell'1% sia in realtà una percentuale altissima, nel senso che tra l'1 e il 2% è la percentuale che mi aspetterei da avere da un nonno di un nonno di un nonno neandertaliano, perché 1 su 2 alla sesta è tra l'1 e il 2%. Quindi questo 1-2% o 4% o 6% nel caso dei misoviani, su che base viene calcolato? Qual è l'unità diciamo di misura? Perché altrimenti non riesco a farmi un'idea delle proporzioni. Allora, vorrei dire una cosa che forse le confonderà ancora di più la sua visione di questo mescolamento. Allora, questo mescolamento ha ragione, cioè 1-2% non è per niente poco, anche perché questa percentuale di genoma che noi condividiamo con i neandertaliani, cioè noi vediamo nel nostro genoma quanta parte di genoma che è neandertal specifico è in noi e si è visto che c'è dall'1 al 2%, d'accordo? Il problema è che questo 1-2% che le popolazioni dell'eurasia occidentale condividono con neandertaliani non è sempre quello, cioè ognuno presenta un 1-2% di genoma neandertaliano ma che è diverso. Pertanto se noi andiamo a sommare tutta la diversità neandertaliana che è presente nelle popolazioni euroasiatiche, arriviamo addirittura a un 40%, il che ha fatto pensare ad alcuni che neandertal non si è estinto manco per niente ma che continua a vivere in noi, perché c'è questo 40% globale di percentuale di genoma neandertaliano che noi abbiamo ereditato da questi nostri congini. Eh d'accordo, però il punto diciamo rilevante della mia domanda è... Sì, perché questo 1-2% quant'è? Cioè, non ho un nonno di un nonno di un nonno neandertaliano, non c'erano neandertaliani a quell'epoca, quindi come fa tutta questa quantità di DNA neandertaliano ad essere arrivato nel mio genoma? È avvenuto attraverso i ripetuti mescolamenti che ci sono stati, ripetuti mescolamenti che poi hanno permesso la diffusione di queste piccole quantità all'inizio di genoma nel resto dell'umanità attraverso la dispersione enorme che c'è stata di Homo sapiens. Tant'è vero che proprio guardando la lunghezza dei frammenti che noi abbiamo ereditato, possiamo risalire a quante generazioni prima questi frammenti sono stati ereditati, perché sappiamo benissimo dalla genetica che a ogni generazione i frammenti si dimezzano, per cui più piccoli sono i frammenti che sono stati ereditati, che possono essere neandertaliani, denisovani o che possono essere i nostri frammenti introgressi in Neandertal, più antico è stato l'evento di mescolamento e come vi dicevo prima questo mescolamento con Neandertal è avvenuto e verosimilmente anche con Denisova in diverse ondate di mescolamento, non ce n'è stata una sola, quella più massiccia forse è stata quella di 60-50 mila anni fa, ma ad oggi, e dico ad oggi perché non mi stupirei che domani esce un altro articolo che dice una cosa diversa, ci sono state sicuramente delle ondate di migrazione e mescolamento antichissime, come vi dicevo 250 mila, 120 mila anni fa, per cui ogni volta che si incrociavano queste diverse specie potevano mescolarsi in maniera proficua, d'altro canto come vi ho detto è un fenomeno che si è visto, c'è il concetto vecchio di specie dove non si potevano prevedere il mescolamento e la nascita di prole fertile è cambiato nel tempo, non è più quello insomma, si è visto non solo nella nostra storia evolutiva ma anche in altre specie zoologiche, è cambiato un po' come in tante cose anche in quello, l'interpretazione della specie biologica che avevamo precedentemente. Questo implica che ciascuno di noi non ha un antenato per Andersaliano ma ne ha diversi, che si sono succeduti nel tempo. Certo, verosimilmente sì, sì sì. E poi bisogna vedere se i nostri antenati neandertaliani che ci hanno passato una parte del loro genoma a loro volta non erano mescolati chissà con chi altro, con denisoma ma chissà con quanti altri antenati ancora più antichi, cioè noi veramente siamo un mosaico di molte storie, di tante umanità, per questo parlo di tante umanità perché abbiamo avuto tanti antenati e nel nostro genoma c'è traccia di tutti questi regali che ci hanno fatto nel corso del tempo. Ok, grazie. Fermo, rispettando che la Special No Sapiens compare a un certo punto e ha le sue caratteristiche. Certo. La professoressa Lepre. Sempre anche io, mio socio. Intanto non ho potuto fare un applauso dal vivo, a me è piaciuta molto anche la concorsione, ma mi colpisce, oddio non c'è più voce, questa radiazione che non torna mai indietro, non so come dire, né i modelli. Non so come dire, non si torna in Africa. No, veramente si torna in Africa, e come? Tant'è vero che quella percentuale di genoma neandertaliano che noi troviamo in Africa, dove neandertaliano ad oggi sappiamo non essere mai andato, è arrivata proprio perché delle popolazioni di Sapiens che erano uscite fuori dall'Africa, erano andate in Medio Oriente, si erano mescolate con neandertal, per cui portavano nel loro genoma in progresso una certa percentuale di geni neandertaliani, ritornando in Africa e mescolandosi con le popolazioni africane, hanno passato indirettamente quello 0,2% di genoma neandertaliano senza che ci sia stato un contatto diretto tra i sapiens africani e neandertal. C'è stata popolazione di sapiens. L'avevo sentito. Eh, di grati precedentemente. Al modello, nel senso il messaggio del modello, è ovviamente un modello, quindi è molto sintetico, però non esprime tutta questa complessità anche in qualche modo della circolarità, ecco, questo volevo. Beh, assolutamente, assolutamente ci sta la migrazione e poi nuovamente sono rientrati nelle zone dove erano migrati, assolutamente. Cioè, una cosa è in dubbia che tutte le umanità, sia noi che i nostri antenati, sono sempre andati in giro dappertutto e si sono mescolati tutti con tutto, per cui sicuramente il messaggio che dicevo che le razze non esistono perché c'è stato sempre questa situazione di grossa migrazione, sia per necessità o anche per curiosità. Cioè, secondo me, anche a un certo punto c'è stata anche la voglia di andare a vedere cosa c'era fuori, che ne so, dalla pulla africana, così come vogliamo andare a vedere cosa c'è su Marte, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, c'è stato sempre questo... Però, appunto, per i non addetti ai lavori un messaggio potrebbe essere di una certa ambiguità, ecco questo voglio dire, quando questo modello della radiazione che da un punto si espande e non si è indietro. No, quello è il modello di quando si è originato, cioè quando la nostra specie ha avuto origine per la prima volta. Il modello dice solo quello, cioè ci siamo originati in Africa, siamo usciti fuori dall'Africa, e questo è indubbio. Dopodiché non prende in considerazione tutti gli eventi di migrazione che sono successi successivamente. Cioè, questo soltanto era il modello per spiegare l'origine della nostra specie e in cui è questo modello dell'autopefrica, che è quello che va per la maggiore, presenta una struttura di modello diverso da quello del multiregionalismo. Perché c'è da una parte i multiregionalisti che dicevano c'è stata un'origine multipla e antica. Questo è chiaro, sì. E invece quell'altro dice no, c'è stata un'origine unica e recente. Poi certo, l'ambiguità io credo che sia soltanto, se uno non pensa che parliamo soltanto dell'origine di Satowin, cioè soltanto quello il punto di quel modello dove si vede la freccia dall'Africa orientale, la zona dell'Africa orientale con le frecce che escono fuori per andare a comunizzare il resto del mondo. Sì, sì, io penso più a una divulgazione di tipo scolastico, dove non vorrei che appunto al modello lineare poi si sostituisca un altro modello rigido. Questo voglio dire, per me è molto chiaro, però insomma a livello di divulgazione ci farei un ragionamento, tutto qua. Benissimo, c'è un'altra mano alzata anche se non è la manina elettronica. E allora l'ho fatta. Complimenti, bellissima, davvero interessante. Non avevo idea di questa enormità di incroci nel genere uomo. Quindi due cose. Una, come insegnanti non dobbiamo più dare la definizione che abbiamo sempre dato di specie. Quindi, come diceva la professoressa, non vale più quella definizione di specie, ne dovremo trovare un'altra per capire. E questa è una domanda, come potremmo definire la specie a questo punto. L'altra è l'estinzione del Neandertal e di tutte le altre specie che abbiamo visto. A favore del Sapiens, ha visto tutte queste analisi molecolari, eccetera, sta avendo una spiegazione, un perché, o ancora non sappiamo perché si siano estinti il Neandertal. Allora, sì, per quanto riguarda la prima domanda, assolutamente il concetto di specie che avevamo precedentemente non è che non va più bene, che non può più essere così rigido. Nel senso che quando ci sono le zone, non è che le specie si mescono sempre e comunque, si mescono nelle zone dove c'è la sovrapposizione dell'areale di distribuzione. Cioè ai limiti della distribuzione delle specie, quando queste si sovrappongono, è possibile che si mescolano in maniera profigua tra di loro. D'accordo? Per cui è un insieme di individui che appartiene a uno stesso gruppo, che sono interfecondi, però mentre prima si evitava completamente la possibilità che ci fosse un certo grado di mescolamento tra specie diverse, adesso dobbiamo ammettere, perché è stato provato a livello sperimentale, che nelle zone di sovrapposizione delle specie, per cui ai limiti della distribuzione di ciascuna specie, ci può essere mescolamento e comproduzione di proletari, certo, però con una frequenza molto più bassa rispetto al tipo di mescolamento che c'è all'interno di una stessa specie. Cioè è un po' come anche il modello multiregionale, cioè quegli schemi molto rigidi che c'eravamo posti fino a un certo momento, anche perché diciamoci la verità faceva più comodo, era molto più semplice spiegare certe cose con un modello molto rigido, adesso questa rigidità va un pochino persa. Questo non vuol dire che dobbiamo vanificare totalmente quella che è o il modello dell'autovefrica o il concetto di specie, però dobbiamo rivederlo, rivederlo sulla base anche delle analisi che avevamo e secondo me l'analisi molecolare è stata molto importante perché senza gli studi molecolari noi queste ibridazioni tra le specie non avremmo mai potute vedere, perché a livello anatomorfologico tu non te ne rendevi conto, perché sono percentuali così piccole che non ti danno l'ibrido perfetto, anche perché è difficile definirlo. Va bene? L'altra domanda mi sono scordata? L'estinzione di Neandertal è stato un tema molto affrontato dagli antropologi, sono state proposte diverse idee, a un certo punto era stato addirittura proposto che i Neandertalani si sono estinti perché avevano un tipo di alimentazione che prevedeva soltanto carne rossa, pertanto avrebbero avuto delle grosse difficoltà a riprodursi, poi la sperimentazione ha fatto vedere che non era vero perché i Neandertaliani si cibavano delle stesse cose dei Sapiens a seconda di dove vivevano. Poi virus portati da Sapiens africani che possono aver influito. Quello che vi dicevo sembrerebbe da questi ultimi studi molecolari che i Neandertaliani si sono estinti proprio perché erano pochissimi, cioè ha cominciato a diminuire la numerosità della popolazione Neandertaliana che peraltro ha vissuto anche in un periodo climatico difficile, quello dell'ultima glaciazione, per cui si sono trovati a diventare sempre meno, a combattere in senso petaforico, cioè a trovarsi di fronte a questa nuova specie proveniente fuori dall'Africa e quello che è stato l'assorbimento come aveva già proposto un paleoantropologo americano negli anni 80 del secolo scorso è stato assimilato, cioè sono rimasti sempre meno, sempre meno finché gli ultimi sono stati assorbiti nel nostro pulgenico e questa è una possibilità della scomparsa. Sicuramente dal mio punto di vista come in tutto ci saranno state più cause della scomparsa di Neandertal, non è possibile dire che c'è stata un'unica causa, cioè sono state più cause che hanno portato poi all'assimilazione o alla scomparsa di questi nostri antenati. Grazie. Benissimo, grazie. Altre domande o commenti o richieste di chiarimento? Federica Riguzzi. Prego. Non la sentiamo però, forse è il microfono spento? Ecco, grazie. Ringrazio per il bel seminario. Volevo chiedere una cosa forse molto basica, data la mia ignoranza, la faccio lo stesso alla domanda. Volevo sapere quanto le condizioni ambientali dei diversi climi, delle diverse zone possono aver condizionato alcune modificazioni nei vari DNA? se questo è possibile oppure no. Le diverse popolazioni, trovandosi a diverse latitudini e in diverse condizioni ambientali, nel corso dei millenni, diciamo così, delle migliaia di anni, possono aver creato delle modificazioni anche genetiche. Assolutamente, questo è il fenomeno proprio tipico dell'adattamento. Cioè noi sappiamo che nel nostro genoma a ogni generazione ci possono essere delle mutazioni e la maggior parte di queste mutazioni sono mutazioni cosiddette neutrali, cioè che non comportano niente al livello di selezione o evolutivo. Però queste mutazioni possono rimanere nel nostro genoma e magari quando cambia un determinato ambiente possono risultare più vantaggiose rispetto ad altre e pertanto diventare, come si dice in termine genetico, fissate all'interno della popolazione. È vero che questo fenomeno di adattamento che comporta appunto prima la formazione di determinate mutazioni, trovare che queste mutazioni siano più adatte in un determinato ambiente che comporta è un fenomeno evolutivo molto lungo. Quello che noi sappiamo ultimamente, quando vi parlavo prima di introgressione adattativa, è che le specie hanno sperimentato un meccanismo molto più veloce, che è quello del mescolamento. Cioè se tu ti mescoli con una specie che già adatta in un determinato ambiente, riesci molto velocemente ad acquisire quelle mutazioni che ti permettono di vivere meglio in quell'ambiente stesso. Ed è quello che ha fatto Sapiens quando, vivendo in Africa, in un clima che era appunto caldo e umido, dovendo affrontare le zone ad alta latitudine del resto dell'Europa, del resto del vecchio mondo, mescolandosi con i neandertaliani e con i denisovani, hanno preso quelle varianti che gli servivano in maniera molto più veloce. Però sicuramente l'adattamento nelle varie zone del mondo ha una base genetica, per cui è il genoma che permette o meno di adattarsi a determinate situazioni. Quello che vi dicevo c'è questo gene che si chiama EPAS1, che permette di resistere all'ipossia. Allora è ovvio che i tibetani che devono vivere ad alta altitudine, se hanno questo gene, vivono meglio perché in un ambiente dove l'ossigeno è rarefatto, è un aiuto. per la sopravvivenza in quel determinato ambiente. Bene, grazie. Benissimo. Vedo una mano alzata di nuovo da Elio, Carpitelli. Sì, Carpitelli. Volevo qualche altro dettaglio, perché finora si è parlato soprattutto di geni che hanno un impatto sulla fisiologia, questa cosa della quota, eccetera, eccetera. o anche la pelle si era detto in altri seminari precedenti. Ma è possibile dire qualcosa anche a livello linguistico, cioè se l'ibridazione ha portato a un'influenza tra le lingue parlate e anche a livello culturale e a livello tecnologico, se ci sono stati scambi tra Sapiens, Neandertal, Denisova, eccetera, eccetera. Beh, quando parliamo però di lingue parlate partiamo di una fase della nostra storia evolutiva molto successiva a questi eventi di mescolamento di cui parliamo. Di Denisova sappiamo poco, di Neandertal ci sono alcuni studi che ci dicono che poteva avere forse un linguaggio articolato come avevamo noi, forse qualcun altro vi ha parlato del gene Foxpeed 2, che è un gene che è implicato con la possibilità che noi abbiamo di parlare, sempre studiato dal grande Svantepebo, che aveva visto appunto che se ci sono delle mutazioni nelle popolazioni normali in questo gene, ci sono delle difficoltà non solo di lessicali ma anche di organizzare un discorso di senso compiuto. E avevano anche visto, sempre Svantepebo, che c'era una differenza di due mutazioni pontiformi che comportavano due sostituzioni amminoacitiche tra noi e lo scimpanzè. Per cui questo hanno visto che è un gene che può essere coinvolto nella capacità che noi abbiamo di parlare. E quello che era stato visto, anche se era, non credo che abbiano ad oggi sequenziato l'intero Foxpeed 2, ma insomma quei tratti di genoma che avevano visto facevano sì che Neandertal e Sapiens avessero la stessa struttura di questo gene. In più, alcune altre prove sulla base della struttura dell'orecchio interno hanno fatto pensare che i Neandertaliani potessero avere un sistema, come dicevo, di linguaggio. Però c'è un certo tipo di fonazione che non sappiamo neanche come potesse essere, cioè non può essere confrontata con il tipo di lingue che si sono evolute molto dopo, insomma. Ecco, però la mia domanda era se si sono incrociati, diciamo, sessualmente, verosimilmente si parlavano, si capivano l'uno con l'altro, quindi anche parlando in modo diverso, però c'era la possibilità di intendere. Sicuramente, ma forse non c'era bisogno neanche di parlare. Carpitella immagina delle storie d'amore, non è detto che lo fosse. No, sicuramente si potevano far capire, anche perché Neandertaliani sappiamo perfettamente che avevano un livello culturale molto avanzato, per cui andavano a caccia, per cui sicuramente tra di loro si capivano, in qualche modo si capivano anche tra loro e Sapiens. Basta pensare che noi stessi, quando andiamo all'estero, noi italiani siamo famosi con il linguaggio dei segni, possiamo con le mani far capire quello che vogliamo fare. Per cui sicuramente, delle interazioni ci devono essere stati, non solo. Ma anche i figli che avevano madre Denisoviana e padre di italiano, in qualche modo dovevano intendere l'uno e l'altro. Assolutamente, certo. Lì bisogna vedere con chi rimanevano i figli. Esatto, non è detto che si siano create delle famiglie. No, perché per esempio quest'ultimo studio che vi ho presentato, quello sembrava proprio indicare che le progenie dei primi incroci fossero rimaste con le comunità neandertaliane, anche perché non troviamo traccia in Sapiens di questi incroci antichi. È ovvio che si presuppone, noi possiamo avere la prova, però insomma sono tutte indicazioni che ci fanno pensare che ci sia una certa situazione rispetto ad un'altra. Ok, grazie. A livello tecnologico ci sono indizi di passaggi, di tecniche o di attratti culturali da una specie all'altra? Insomma, sicuramente ci sono delle zone, anche a livello archeologico, noi sappiamo che Sapiens e Neandertal hanno convissuto, anche se i due tipi di industria, la musteriana di Neandertal, non è identica a quella di noi Sapiens, insomma. Però sicuramente dei momenti di contatto a livello archeologico sono stati documentati in maniera molto precisa, insomma. Tant'è vero che è stata esclusa una delle prime cause dell'estinzione di Neandertal, che si pensava che arrivati i Sapiens avessero debellato i Neandertaliani, proprio una sorta di genocidio, cosa che non c'è traccia, vero Giorgio, a livello archeologico? Assolutamente no. Benissimo, grazie, grazie davvero Olga, la professoressa Rikers, per il suo bellissimo seminario, grazie a tutti quelli che sono intervenuti per le domande, che hanno sicuramente arricchito questi contenuti, insomma, complessi che affrontiamo di volta in volta e che, come dico, forse richiedono ulteriori approfondimenti per poter essere poi del tutto sviscerati. Un ultimo approfondimento lo seguiremo tra una settimana esatta con il seminario che terrà il dottore Emiliano Brunner, attualmente in forza al Museo di Storia Naturale di Madrid, sul tema L'origine di una mente moderna, corpo, visione e attenzione. Qui, evidentemente, veniamo quasi a una sintesi di tante cose che abbiamo ascoltato, soprattutto nelle ultime lezioni seminarie, compresa quella di oggi, parlando di encefalizzazione, quindi del progressivo sviluppo dimensionale del cervello nel corso dell'evoluzione del genere uomo, ma soprattutto del conseguimento di una mente umana moderna. E questo, indubbiamente, si lega moltissimo all'ultimi scambi che ci sono stati proprio oggi sul tema del linguaggio, per esempio, dove effettivamente soltanto un approccio integrato tra vari aspetti che vanno dalla morfologia, la fisiologia, la genetica, ma anche all'archeologia e alle neuroscienze moderne ci possono aiutare a, in qualche modo, decifrare. Ed è proprio quello che fa Emiliano Brunner, che è un paleoneurologo, cioè uno di quelli che studiano, cercano di studiare le funzioni cognitive nelle specie umane estinte, cosa ovviamente non facile, ma come vedrete, possibile. E quindi io vi ringrazio ancora, vi ringrazio molto e ringrazio soprattutto la professoressa Rickards, grazie Olga per aver accettato il nostro invito per questo bellissimo seminario e tra una settimana ci rivediamo qui. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.